Oltre al conflitto in Ucraina, ci sono diverse guerre dimenticate che il mondo non copre ampiamente e che potrebbero essere interessanti. E nessuno ne parla. 1. Conflitto in Nagorno-Karabakh, Armenia-Azerbaijian. Questo conflitto è esploso di nuovo nel 2020 e ha visto intense battaglie tra Armenia e Azerbaijan per la regione del Nagorno-Karabakh. Mentre la guerra si è conclusa con un accordo di pace mediato dalla Russia, tensioni e scontri minori continuano nella regione. È una guerra che ha radici storiche complesse, risalenti alla caduta dell'Unione Sovietica e che raramente riceve attenzione mediatica a livello globale. 2. La guerra del Tigre in Etiopia. Questo conflitto è iniziato nel novembre 2020 tra il governo etiope e le forze del Tigre. Sebbene si sia concluso formalmente con un cessate il fuoco nel 2022 le conseguenze umanitarie sono devastanti. Centinaia di migliaia di persone sono morte e milioni di persone sono state sfollate. Nonostante la portata della tragedia riceve poca attenzione dai media occidentali. 3. Guerra in Yemen. In corso dal 2014 la guerra civile iemenita è spesso trascurata nonostante sia uno dei peggiori disastri umanitari moderni. Coinvolge molteplici fazioni, inclusi gli Houthi, il governo iemenita e una coalizione guidata dall'Arabia Saudita con implicazioni geopolitiche complesse. 4. Guerra del Sahara occidentale. Questo conflitto coinvolge il fronte polisario che lotta per l'indipendenza del Sahara occidentale dal Marocco. È un conflitto a bassa intensità che dura da decenni, ma raramente viene menzionato nelle discussioni globali. 5. Conflitti nella regione dei Grandi Laghi, Africa centrale. Paesi come la Repubblica Democratica del Congo sono afflitti da conflitti violenti da decenni. Le milizie armate, la competizione per le risorse minerarie e le tensioni etniche alimentano una crisi umanitaria senza fine, con milioni di morti e sfollati. Ciao amici e benvenuti su Spasso X, dove la propaganda russa e ucraina non esiste. Parliamo solo di cose reali, notizie, storia curiosità e tutto quello che ci riguarda a giorno d'oggi. Non dimenticare, lascia un like, è un'iscrizione che mi date una mano grossissima.